Ci chiedono se torneremo in zona rossa, Anna Verrigni chiede se torneremo in zona rossa, questi sono dati da zona rossa per la regione Abruzzo con quelli che sono i parametri del comitato? Per la stessa logica del breve lasso temporale non possiamo forzare la mano a considerazioni di questo tipo, che si esca da una zona gialla è molto probabile. Quale sarà il nostro target è tutto da vedere, l'hai detto bene tu prima, se il picco di Pescara anticipa quello regionale potrebbe addirittura diventare rosso, stiamo a vedere.